Luca era un bravo ragazzo, nel senso lui non dava noia nessuno, non aveva mai avuto nessun problema. Non mi aspettavo una cosa del genere, ritrovarlo morto in un campo così, veramente straziante. Non si danno pace gli amici del Moro, così era soprannominato Luca Moretti, il 26enne di Rigutino, scomparso da casa un mese fa, ritrovato cadavere in un campo nei pressi di Policiano, alle porte di Arezzo. Ad un passo dalla trafficatissima regionale 71, l'altezza dell'erba potrebbe aver nascosto il corpo del giovane a chi lo cercava. Luca Gallorini, il 45enne che lo ha ritrovato, ha sentito qualcosa che faceva resistenza mentre metteva il campo con il trattore, così l'ha scoperta. All'inizio ho pensato che fosse andato via di casa di sua spontanea volontà, però quando dopo ho sentito che abbiamo iniziato le ricerche lungo la chiana, ho detto, vuol dire che lui non c'è più. Gli inquirenti tendono a scartare l'ipotesi del delitto e allora, overdose, Luca non aveva precedenti specifici ma non era insensibile a certe sostanze. Malore, difficile pensarlo senza una concausa, 26 anni. E come c'è finito Luca in quel campo, anche la posizione del cadavere rivolto verso l'alto potrebbe far pensare che qualcuno lo abbia lasciato lì, ma secondo una prima ricognizione non ci sarebbero altre tracce nel campo se non quelle del trattore. Tutte ipotesi e domande alle quali intanto potrà rispondere l'autopsia disposta per lunedì dal PM Andrea Claudiani. Il caso ha sconvolto la frazione di Rigutino dove i genitori di Luca sono molto conosciuti per le loro attività e la gente ha portato dei fiori in quel campo dove il moro ha trovato la morte. Ultimamente a Rigutino non ci usciva tanto, però c'è nel senso io quelle poche volte che l'ho rivisto al bar era sempre stato sereno, nel senso non è mai stato turbato che l'avessi visto turbato, è sempre stato un semplice ragazzo.